buonasera e buon inizio anno a tutti quanti buon 2024 questo breve video serve a darvi un piccolo aggiornamento su una parte di territorio di israele in pratica dal 7 ottobre tutte le aree limitrofe ovviamente la striscia di gaza hanno subito una grossa devastazione mi faccio vedere alcune foto dei kibbutz ecco i kibbutz sono appezzamenti di terra in cui diverse famiglie di ebrei vivono insieme quindi condividono le risorse l'economia nei kibbutz più ortodossi anche l'educazione dei figli è religiosa in quelle più laiche invece un po meno però è un modo di vivere in comunità che ha origini socialiste i kibbutz sono nati durante per il fatto che gli ebrei dalla russia sono tornati a vivere in palestina all'epoca e poi diventate israele e quindi hanno ereditato questa forma di comunitarismo cosa è successo che in israele in questa parte del di israele che è la parte sud vi faccio vedere anche una la mappa una condivisione con google earth per esempio faccio vedere dove si trovano questi kibbutz per esempio questo è il kibbutz kerem shalom quindi la vigna della pace questo kibbutz come altri 23 kibbutz sono stati devastati tutta la mano d'opera che veniva impiegata vedete la striscia di gaza askelon sderod askelon sderod ecco tutta la mano d'opera che era per la maggior parte asiatica no per cui avete sentito che diversi ostaggi erano tailandesi o filippini adesso tutta questa mano d'opera è venuta meno la questione che israele da diversi anni ma sempre investito sulla questione ambientale no quindi il deserto sta davvero indietreggiando in queste zone vi faccio vedere alcune foto delle produzioni agricole che ci sono in questi luoghi allora guardate siccome il clima è davvero propenso tutto l'anno si raccolgono agrumi frutta verdura vedete avogadro mango mandarini ma anche fagiolini queste sono le foto dei kibbutz in questo momento il grosso problema è che non c'è più mano d'opera per cui tutto il raccolto rischia di andare perso e queste sono le situazioni attuali allora questo video ha proprio questa funzione di invitare abbiamo avuto il contatto e la possibilità di mandare in tutta sicurezza persone che dall'italia vogliono partire per andare a fare volontariato di una settimana a raccogliere la frutta la verdura gli agrumi dai kibbutz nei kibbutz quindi ci saranno persone ad accogliervi chiaramente questi kibbutz sono situati nella zona del negev sarà in tutta sicurezza quindi non è un viaggio turistico ovviamente ma è un viaggio di volontariato per cui se qualcuno di voi fosse interessato vedete alle mie spalle ci sono i contatti metteremo nel link in descrizione anche un modulo da compilare e se qualcuno di voi ha nel cuore di fare questa esperienza di supportare il movimento dei kibbutz può farlo chiaramente noi abbiamo la raccolta fondi sempre attiva metteremo il link nella descrizione di questo video e sosteniamo e supportiamo sia il movimento dei kibbutz per ricostruirli ridare le case le persone ma anche sosteniamo una chiesa e un ministerio importante in palestina nelle città più calde della palestina quindi in realtà sosteniamo entrambe le fazioni perché crediamo entrambi nella convivenza e nella necessità di aiutare sia un gruppo che l'altro e soprattutto crediamo che e preghiamo che il principe di pace venga accolto è solo lui che anche a livello antropologico può portare serenità e convivenza tra questi due popoli grazie